che quando non si accettano la decisione è perché non si conosce. Io dico, quando a te non piace questa decisione, vai a parlare e di i tuoi dubbi e porta avanti una discussione fraterna e così va avanti la cosa. Il pericolo è che non mi piace e me lo metto nel cuore e così ti vengo con una resistenza e faccio delle conclusioni brutte. Questo è successo con queste ultime decisioni sulla benedizione a tutti. Il Signore benedice tutti, tutti, tutti che vengono. Dobbiamo abbracciare il Papa Francesco proprio forte, forte, ci dà un conforto meraviglioso. Il Signore benedice tutti coloro che sono capaci di essere battessati, cioè ogni persona. Ma poi le persone devono entrare in colloquio con la benedizione del Signore e vedere cosa è la strada che il Signore gli propone. Ma noi dobbiamo prendere per mano e aiutarli a andare a quella strada, non condenarli dall'inizio. E questo è il lavoro pastorale della Chiesa. E questo è un lavoro molto importante per i confessori. Io sempre dico ai confessori, voi perdonate tutto e trattate la gente con molta bondà, come il Signore ci tratta a noi. E poi se tu vuoi aiutare la gente, voi puoi parlare e portarle sempre avanti e aiutarli ad andare avanti. Perdonare tutti. due guerre che come sono vicini a noi, se sentiamo in 54 anni di prete che io ho, questa è una confessione. 54 anni che sono prete, io sono vecchio, e in questi 54 anni ho soltanto perdonato, negato una sola volta il perdono. Per l'ipocrisia delle persone. Una volta. Sempre ho perdonato tutto. Ma anche con la, dirò con quella consapevolezza che quella persona forse ricadrà. Ma il Signore ci perdona. Aiutare a non ricadere o a ricadere meno, ma perdonare sempre. E spesso si sente parlare di sue dimissioni, no? Senti, non è né un pensiero, né una preoccupazione, neppure un desiderio. È una possibilità aperta a tutti i papi. Ma per il momento non è al centro dei miei pensieri e dei miei inquietudini, dei miei sentimenti. Nel tempo che io mi sento con capacità di servire, vado avanti. Quando non ce la farò più, sarà il momento di pensarci, sai? Mi chiedo di pregare per me. pregare. Pregare perché io vado sempre avanti. Perché io non fallisco nel mio dovere. Ma per favore, pregare a favore, no contro. Grazie. Grazie Papa Francesco.